Benvenuti al Tg regionale per sordi. I carabinieri del comando provinciale di Arezzo hanno eseguito misure cautelari nei confronti di 13 persone ritenute responsabili di un traffico di cocaina e marijuana. Le indagini avviate dai carabinieri di Arezzo nel marzo 2018 e coordinate dalla Procura della città toscana hanno consentito di ricostruire che gli indagati appartenenti a quattro diversi presunti gruppi criminali albanesi sarebbero stati in grado di approvvigionare ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti per la successiva cessione nelle principali piazze di spaccio del capoluogo aretino. Individuate decine di persone dedicate all'assunzione di stupefacenti nella stragrande maggioranza di casi di cocaina e contestate circa 3.200 cessioni per un volume di affari del valore stimato di circa 200.000 euro. Il laboratorio che ai tempi del lockdown effettuava le analisi sui tamponi per il coronavirus per conto delle aziende sanitarie della Toscana avrebbe usato un reagente non autorizzato poiché privo del marchio C'è e deputato al solo uso ai fini di ricerca. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Firenze. Secondo quanto spiegato dalle consulenze effettuate per conto della procura dai medici dell'Istituto Sanitario di Sanità e da quelli dell'Istituto Spallanzani di Roma è emerso che il reagente pur non essendo autorizzato non avrebbe comunque falsato l'esito degli esami diagnostici. Sei persone sono rimaste ferite in un incidente sulla strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno coinvolti un mezzo pesante e tre auto chiusa anche l'entrata Empoli-Ovest in direzione Mare. Incidente stradale questa mattina a Sesto Fiorentino in via Lucchese all'incrocio con via Torta si sono scontrate due auto e un furgone. Nello scontro un uomo di 65 anni è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo estratto dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari del 118. Sulla acciaglieria di Piombino il sindacato auspica che finalmente e in tempi rapidi si raggiunga una stabilità perché i piani industriali presentati fino ad oggi e le loro realizzazioni hanno avuto percorsi molto complicati. Pensiamo che Piombino debba essere uno dei perni di una rivisitazione complessiva del ruolo della siderurgia. Lo ha detto Francesca Redavi segretaria generale della FIOM CGL a margine di una iniziativa a Firenze commentando la presentazione del piano industriale in programma il 15 settembre. Eugenio Gianni, Susanna Ceccardi e Irene Galletti non hanno partecipato fisicamente ma solo in collegamento video all'evento di Confindossia Toscana nel quale l'associazione ha chiesto ai tre candidati alla presidenza della regione le loro posizioni sulle priorità individuate da uno studio condotto dalla scuola Sant'Anna. I tre, secondo quanto emerso, non erano presenti per via di altri impegni di campagna elettorale. E la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ampia la sua offerta formativa presentando 14 corsi intensivi di una o due settimane tra il prossimo mese di ottobre e settembre 2021 a carattere residenziale o in modalità online su temi di ricerca di frontiera interdisciplinare dalla fotonica all'economia circolare al cambiamento climatico alle simulazioni mediche alla politica europea alla scienza dei dati alla gestione dei dati in sanità. I corsi, tenuti soprattutto in inglese si rivolgono a studenti universitari iscritti ai corsi di laurea triennale laurea magistrale e ai corsi di dottorato di tutte le università italiane e straniere. Torna con un gelato regali un sorriso la manifestazione organizzata da Fondazione Ant Italia Onlus che anche quest'anno coinvolgerà i gelatai di Firenze e di altre province toscane. Domani in tutta la regione si terrà una vera e propria giornata del gelato durante la quale oltre 70 gelaterie devolveranno una percentuale dell'incasso a favore del progetto Bimbi in Ant il servizio di assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita che la Fondazione offre ai piccoli malati di tumore. Una quarantina di foto in bianco e nero per mostrare le piazze e le città toscane durante il lockdown nei mesi dell'emergenza sanitaria da coronavirus. lo propone la mostra fotografica itinerante di Luca Betti e Luciana Petti Toscana Lockdown inaugurata a Palazzo del Pegaso a Firenze. Resterà visibile gratuitamente fino al 21 settembre poi le 36 foto si sposteranno in un'altra delle città ritratte. E ora le previsioni del tempo per domani in Toscana in prevalenza sereno salvo temporanei annuvolamenti nel pomeriggio sui settori meridionali e in Appennino venti deboli o moderati settentrionali mari poco mossi o mossi nel pomeriggio a sud di Capraia temperature minime in lieve calo massime in aumento su valori superiori alle medie del periodo era l'ultima notizia grazie per averci seguito arrivederci grazie